Un estese e robusto campo di alta pressione continua a garantire la prevalenza di un tempo stabile e soleggiato su gran parte del bacino del Mediterraneo centro-occidentale. La presenza di un blando minimo al suolo sul Golfo di Genova favorisce un debole flusso umido con formazione di nebbia e nubi basse, configurazione destinata a persistere per tutta la settimana. In Toscana giovedì 3 dicembre, nuvoloso per nubi basse più consistenti sulle zone settentrionali e per il transito di velature e nubi di tipo alto. Nebbia al mattino nelle pianure e fondo valle dell'interno in parziale dissolvimento, venti deboli variabili, mari calmi o poco mossi, temperature in lieve diminuzione. Sul territorio provinciale da poco nuvoloso a nuvoloso con locali foschie. A Lucca è sulla piana, temperatura minima 6, massima 13 gradi. In Versilie sul litorale minima 8, massima 15. In Garfagnana e zone montane minima 2, massima 17 gradi. Venerdì ancora cielo sereno poco nuvoloso con temperature in lieve calo.